I fedeli islamici presenti nella provincia di Teramo hanno sempre condannato i casi di terrorismo internazionale. Posizione nuovamente confermata soprattutto dopo l'ultima vicenda che ha visto alcuni cittadini tunisini e residenti lungo la costa possibili finanziatori di attività riconducibili al movimento radicale al-Nusra. Una situazione su cui l'Imam Teramano, Mustafa Bazzami, figura di spicco, anche a livello nazionale, è tornato nuovamente a ribadire la totale estranità dei propri fedeli. Noi ancora una volta io e a nome della mia comunità ci complimentiamo con le forze dell'ordine che sono sempre pronti, sempre vigili e non bisogna mai abbassare la guardia. Sinceramente tutto quello che si sta dicendo sui giornali sti giorni io non li trovo conferma sul territorio nel senso che per esempio si parla di un centro di preghiera a Tortoretto che a me non risulta. Quindi se ci sono queste persone che seminano l'odio, predicano la violenza, questi vanno fermati subito e vanno allontanati il più lontano possibile non solo dalla nostra comunità ma da tutto il paese perché non sono i benvenuti da nessuna parte. Voi ovviamente state collaborando sempre a 360 gradi con le forze dell'ordine. Sì, praticamente la mia comunità da quando è nata nel lontano 1996 ha sempre collaborato, ha sempre operato per la pacifica convivenza, per l'inserimento dei suoi membri all'interno della società e quindi per collaborare con chiunque lavori per il bene della società. Qual è il messaggio che dà a lei sempre ai suoi fedeli? Dinunciate, non abbassate mai la guardia, qualunque cosa che voi notiate che può essere un pericolo per voi o per tutta la società dovete dinunciare, non dovete mai abbassare la guardia, mai essere tolleranti con questa gente. Grazie. Grazie.